Bene, siamo con la responsabile dell'Istituto Chiara Gioli. Signora Gioli, la vostra esperienza, che cosa state preparando, come pensa che andranno i mercatini? Io mi auguro che vadano bene, perché sono sempre il risultato di un lavoro, non solo manuale, che è importante, ma anche un lavoro di educazione. Ormai il calcio è entrato nella scuola come forma di educazione alla solidarietà, che è altrettanto importante quanto le altre discipline. E questo negli anni è un lavoro che abbiamo fatto e sta dando buoni frutti. Quindi io mi auguro che vadano bene, nonostante l'incasso che si spera sia sempre più alto. Qui accanto ho alcune colleghe, alcune, perché poi al Calcit, nel nostro istituto, collaborano veramente tutti e questa è una cosa che fa piacere. E fra l'altro una collega qui accanto è in pensione, però lei continua a venire a lavorare con i nostri ragazzi per la realizzazione dei manufatti che poi, diciamo, vengono venduti durante i mercatini. È un'occasione proprio pubblica nella quale io ringrazio tutte le colleghe. Dunque, qui abbiamo adesso una piccola, piccola rappresentanza, perché i bimbi sono tantissimi, dei bambini della Masaccio. Allora, che cosa state preparando? Dite qualcosa anche per invitare le persone a venirvi a trovare. Certo. Allora, stiamo preparando vari oggetti creativi ed interessanti, tra cui collane, vasi e svuotatasche ben decorati e calamitine. Secondo me, venire a comprare questi oggetti aiuta molto il Calcit, i medici e quindi secondo me è una cosa bellissima aiutare questa associazione. Bravissima. Tu che cosa stai preparando invece? Noi invece stiamo preparando dei vasini che decoriamo noi e li venderemo il 14 maggio al Calcit. Anche noi stiamo facendo questi vasini perché siamo nella stessa classe. Noi calamite che decoriamo con rose fatte con pasta di sale. Noi invece è uguale a loro, i vasini, tutti decorati. Per ora abbiamo vesti rosa con delle farfalline abbastanza grandini per mettere le piante. Noi facciamo le calamite con le rose e facciamo anche delle spille con il fimo. Anch'io a casa vedrò di trovare delle cose per il Calcit perché mi piace tantissimo questa cosa.